A guidare il natante soccorso nei giorni scorsi nel canale di Sicilia con a bordo 435 persone, tra cui anche 264 minorenni, sarebbero stati in tre, tutti giovanissimi ed egiziani. Li hanno fermati ieri gli agenti della Polizia Giudiziaria di Pozzallo, poco dopo lo sbarco. Erano arrivati tutti a bordo del pattugliatore Foscari della Marina Militare. 264 minorenni, un numero record e accanto a loro anche 56 donne, 110 di quei bambini non erano nemmeno accompagnati. Secondo l'accusa l'equipaggio avrebbe costretto i passeggeri a rimanere a bordo del peschereccio per sei giorni in un porto libico prima della partenza, sottoponendoli anche a violenze di ogni genere e tenendoli senza acqua né cibo. Il nuovo sbarco ha fatto registrare un numero record di minori, 264 per l'appunto. Uno degli scafisti per sfuggire ai controlli e non essere individuato ha cercato addirittura di farsi passare per uno dei passeggeri e per questo si è impossessato di uno dei tanti bambini a bordo, strappandolo dalle braccia del padre costretto al silenzio con le minacce. Il bimbo però con il suo pianto ha richiamato gli agenti che hanno così scoperto lo scafista. Tutti e tre sono finiti in manette. I nuovi arrivati invece sono ospiti del centro di prima accoglienza di Pozzallo, mentre in 165 sono stati accolti nella succursale dell'ex azienda agricola Don Pietro di Comiso. Le operazioni di salvataggio sono state necessarie non solo per la mancanza di dotazioni di sicurezza del natante, ma anche per il sovraffollamento e il gran numero di bambini a bordo. Quasi tutti provengono dalla Siria e dall'Egitto.